Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. Questo è il messaggio portante che troviamo nel Vangelo. Non è la prima volta che sentiamo questa affermazione e la mia paura è che quando sentiamo questo ci percepiamo come un qualcosa di distaccato dalla terra e dal mondo, cioè voi siete il sale della terra, ciò che dà sapore alla terra. Voi siete coloro che date luce al mondo, però quasi quasi pensiamo ad una separazione, a una distinzione. In realtà il messaggio evangelico è molto più profondo. Nessuno di noi potrebbe mangiare il sale. La luce da sola non serve a nulla se non illuminare attorno a sé. C'è in fondo ciò che Gesù sta affermando in questa frase, quello che ciascuno di noi, in quanto figlio di Dio, in quanto cristiano, è chiamato a mescolarsi, a entrare nel mondo, nella realtà del mondo e a dare sapore, è chiamato a dare luce lì dove si trova. Cioè ma cos'è che dà sapore agli altri? L'amore. Cioè in fondo Gesù sta dicendo tu sei cristiano, ma non per te stesso, non per redimerti tu stesso, non per autosalvarti. Il tuo essere figlio di Dio lo è per gli altri, lo è per redimere il mondo. Non sei chiamato a puntare il dito al mondo, non sei chiamato a giudicare il mondo, ma sei chiamato in Cristo a redimerlo. Come? Diventando sale e luce, concretamente nell'amore. Solo l'amore dà sapore agli altri, solo l'amore dà luce. È un amore che dà gusto, un amore che dà luce e sapore, è un amore che conduce alla verità in Cristo, quella follia della croce che mai e poi mai smetteremo di stupirci. Buonamissima.